E si scontrano oggi The Ghost e inseguitemi, da una parte un 4-3-3, dall'altra anche The Ghost che cerca la rimonta in campionato a solo un punto, inseguitemi che vuole continuare la sua marcia forse nata per la volata Scudetto, Lewandowski di The Ghost ci prova a palo e spazza Song, Lewandowski ancora ci prova, esterno non va, ci prova Felipe Melo, tiro da fuori aria e c'è un grandissimo gol amici, bellissimo gol, 1-0 per inseguitemi, ci prova ancora Lavezzi, colpo di finezza, ancora Neymar da lontano ci prova a pareggiare, non va, inseguitemi 1-0, The Ghost 0. E si incontrano oggi The Ghost e inseguitemi, entrambe le squadre hanno bisogno di 3 punti, i primi 3 punti stagionali che porterebbero a casa, Zeeman Landen comincia con un 4-2-3-1, The Ghost sempre il solito 4-3-3 che è confermato ormai dall'inizio stagione, ci prova subito The Ghost ad attaccare ma risponde Libano con un grandissimo tiro e un batti e ribatti, Curtois si dimostra portiere veramente implacabile, ma va avanti The Ghost, continua, accelera Aguero di Libano, non va, ma attenzione, beh in accelerazione ci prova da lontano e sbaglia, The Ghost 0, Zeeman Landen 0. Cari amici, oggi si sfidano Irriducibili e Sparta, anche loro costretti a vincere per non perdere la scia dei primi, Sparta incomincia con un 4-3-1-2 e Irriducibili risponde con un 4-3-3, incomincia subito Sparta con un tiro di pato che va a lato, la partita è a senso unico, Falcao ci prova ma sbaglia, solo Sparta amici, ci prova a colpo di testa fuori, da lontano ci prova Xabi Alonso ma non trova la porta, ancora Marcelo sbaglia, ancora Pato ci prova da fuori ma sbaglia, tiro di Uedra che risponde ma Loris incassa, niente da fare, Sparta non trova il gol, Sparta 0, riducibili 0. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!